Il punto di vista neutrale è uno dei fondamenti principali e qui chi fa storia potrebbe avere qualche problema appunto perché l'idea è quella che ogni voce dell'enciclopedia proponga i fatti in maniera neutrale il che viene interpretato in maniera piuttosto pragmatica nel riportare i vari punti di vista in maniera bilanciata e imparziale. Non è affatto semplice e una delle soluzioni tecniche che si adottano è quella della verificabilità. Quando ieri ho stato accennato il fatto che su Wikipedia si scrive di storia e cerchi di imitare il lavoro degli storici è esattamente quello, cercare di imitare il rifarsi all'uso delle fonti corretto e quindi trovare situazioni idonee man mano che c'è bisogno e così via.